Sono Stefano Tugnoli, sono il direttore tecnico di edile costruzioni e ingegneria SMA, un'impresa che è impegnata nella realizzazione di questo complesso ospedaliero. Nella torre è ubicato l'ospedale che sarà l'ospedale Galeassi più Sant'Androgio del gruppo San Donato. La torre è una torre di 17 ordini, di cui un interrato, un piano terra e 15 fuoriterra, un'altezza complessiva di 90. come insieme. Le dimensioni alla base sono circa 200 metri per 50, quindi una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati, praticamente un ettaro. La superficie complessiva dell'intervento è dell'ordine dei 180.000 metri quadrati, quindi parliamo di un grossissimo intervento. Abbiamo iniziato a lavorare con Ulma un anno e mezzo fa. Ulma è fornitrice delle principali attrezzature speciali per la realizzazione dei casseri e delle strutture in cemento armato. Abbiamo trovato nell'organizzazione di Ulma piena collaborazione e devo dire che ha impressionato, perché fin dall'inizio, questo cantiere che ha tempi molto stringenti, ci ha seguito e è stato in grado di fornire un volume di attrezzature in poco tempo decisamente buono. Le attrezzature speciali che ha fornito Ulma sono il sistema di casseratura CC4 per i solai, i casseri rampanti per i nuclei, le attrezzature rampanti sono abbinate a attrezzature per il compagno di cacestruzzo, quindi ci sono i tracci distributori che sono integrati nel sistema rampante di Ulma. È stato fornito tutte le attrezzature per i piani in elevazione, per i tavoli speciali per fare tutti i piani. Ulma ci ha seguito sin dalla fase di progettazione, assieme a loro sono state definite tutti i tipi di attrezzature necessarie. Devo dire che ci ha seguito sia nei tempi che nella qualità del lavoro. In conclusione posso dire che siamo soddisfatti dei servizi di Ulma e ci ha fornito un buon prodotto. relativamente al rapporto con Ulma posso confermare la piena soddisfazione di edile, credo anche di Ulma stesso perché il rapporto è stato di piena collaborazione, e il risultato che è effettivamente degno di nota. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.